Ha negato di avere mai minacciato o avuto comportamenti violenti nei confronti della ex compagna e di avere solo in un caso postato una frase sui social ma solo perché voleva provare a riconquistarla. Nel complesso si è articolata così, nell'interrogatorio davanti alla Jeep Valentina Balbo, la linea di difesa del sessantenne Nisseno che si era visto aggravare la misura cautelare dai domiciliari con il braccialetto elettronico alla custodia in carcere su disposizione della stessa giudice per le accuse di maltrattamenti e stalking. Nell'ordinanza la Jeep Balbo aveva sottolineato come l'indagato tra le altre cose avesse intrattenuto rapporti con persone che hanno dei precedenti, oltre a fare un uso disinvolto dei social nonostante fosse già ai domiciliari. Su questi punti, sempre nel corso degli interrogatori, il sessantenne ha spiegato di essere autorizzato ad andare al lavoro e che le due persone incontrate erano dei dipendenti della sua attività commerciale. Le accuse di maltrattamenti che si sarebbero concretizzate in insulti, minacce e gesti violenti ricostruite dai carabinieri coprono un arco che va dal 2015 al 2021, periodo in cui l'indagato aveva avuto la relazione con la persona offesa e una volta che quest'ultima mise fine al loro rapporto sarebbero iniziati gli episodi di stalking. L'avvocato difensore Sergio Iacona ha chiesto la revoca del carcere e la Jeep Balbo farà conoscere la sua decisione una volta sentito il parere del pubblico ministero.